Buone notizie per quanti sono in attesa di assegnazione di alloggi popolari a Vittoria. Molto presto si procederà l'assegnazione dei 20 alloggi ad annunciarlo il vice-sinnaco Filippo Cavallo che assicura che già da qualche mese l'amministrazione comunale sta seguendo passo passo la tematica verificando per ogni singolo assegnatario i dati richiesti dal bando e contenuti nelle varie stanze presentate sulla base delle quali è stata stilata la graduatoria. Si è voluto accertare, chiarisce Cavallo, se rispetto a quanto dichiarato fosse cambiato qualcosa nell'ambito dei vari assegnatari sia come nucleo familiare che in relazione alle condizioni economiche e sociali di ognuno. Verifiche svolte attraverso visite domiciliari degli assistenti sociali del comune, ricerche ipotecari e catastali e interrogazioni all'agenzia delle entrate riguardanti non solo il capofamiglia ma tutti i componenti del nucleo familiare. Il tutto fatto con la costante collaborazione con lo IACP di Ragusa, aggiunge Cavallo, per la necessaria trasparenza e per la tranquillità di quanti avevano presentato le relative stanze. A breve quindi, annuncia il vice sindaco, avverrà la consegna dei 20 alloggi. La delibera di assegnazione è pronta, ha continuato Francesco Cannizzo, esperto per le tematiche sociali e passerà dalla prima giunta utile, subito dopo si procederà all'assegnazione degli alloggi.